Ha sbagliato anche uno smash abbastanza facile Sbaglia di dritto lento, 0-15 E' l'end che scappa, straordinario E' fuori il passante di dritto di Landry, 0-30 Lì si è visto proprio che non è un giocatore di rete Perché quando si è trovato in quella posizione lì Ecco Beh questa è la palla finale ma trovandosi in una posizione Era tre quarti di campo in corso in avanti Ha potuto frenare e tornare indietro 0-30 Lunga Doppio fallo Doppio fallo di 60-70 cm Che offre a Becker tre falli break Tora Disi Dovino fallo Lunga Sperno 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 Doppio fallo sbaglia di dritto l'angle cede a zero il servizio ecco il vecchio Donald Budge Donald Budge con la moglie è il giocatore che nel 1938 ha realizzato per primo il grande slam vincendo tutti e quattro i tornei più importanti del mondo in Australia, Roland Garros, Wimbledon e i campionati degli Stati Uniti che allora si giocavano a Forest Hills 15-0 dietro a lui c'è Jack Kramer Jack Kramer ha vinto anche lui la sua dose di tornei e Bobby Riggs ha vinto qua 50 anni fa è forse giusto dirlo perché è il meno conosciuto di questi tre eroi che abbiamo appena visto è stato penalizzato dalla guerra lui ha vinto Wimbledon e Forest Hills nel 1939 poi è arrivata la guerra e poi si è messo a scommettere ha fatto delle cose straordinarie ma è in un altro campo lo sapeva Becker era già lì ma non è stata data un'ultima volet quella precedente a procurargli il punto parla che viaggiava a una velocità impressionante doppio fallo è l'ottavo doppio fallo di Becker nell'incontro uno che non si scoraggia troppo quando commette qualche doppio fallo fa parte del suo gioco è abituato a rischiare molto sul servizio eh sì è diventato bravissimo nel ingoiare la delusione di certi punti che non gli riescono addirittura che vanno a rovescio è molto migliorato il modo con cui affronta la partita staglia di dritto Becker da 30 a 0 30 pari Becker sta servendo per il secondo set sul 5 a 3 pancio segura continua la carellata dei vecchi campioni pancio segura non aveva l'aria di essere soddisfattissimo si diceva qualche cosa che lo contrariava anche pancio segura è ancora meno noto di Bobby Riggs perché ha giocato poco nel tennis tradizionale è stato un gran professionista inevitabile il mormorio quando la palla si inserisce nelle maglie della red 30 pari seconda di servizio ha avuto il coraggio di seguire la seconda di servizio è importante soprattutto Rino set point sì soprattutto Rino perché si è accorto che quando serve una seconda di rotazione composita diciamo liftata per semplificare l'endler non riesce a tirarla giù dall'alto secondo me ha usato poco questa seconda palla questo tipo di seconda palla nell'incontro questo spiega la sua bassa percentuale sulla seconda di servizio nei primi due set no ma se la usa poco non fa centrare quello specifico colpo a l'endler il passante di dritto di l'endler cancella il set point ecco qua che vediamo forse la volée di Becker non è stata così rapida come doveva essere no no e quindi ha consentito il recupero a l'endler non è penetrata quella volée c'è arrivato sopra un po' pesantemente la palla ha fatto anche una piccola curva insomma è stata una volée più lenta di quanto avrebbe dovuto essere 40 pari non entra ancora la prima palla vediamo cosa decide di fare sulla seconda Tiriak la ragazza di Becker aveva provato la stessa soluzione precedente quella che aveva giocato sul 30 pari ora però la palla ha preso il nastro deve rigiocarla e chissà adesso non può più contare sul fattore sorpresa poi l'endler ha fatto anche un passettino avanti comunque va lo stesso che fa male che fa male perché l'endler se lo aspettava se lo aspettava gli ha giocato una risposta violenta bassa sulla quale Becker non ha potuto far altro che giocare una volée difensiva offrendo all'endler questo passante al volo questo dritto al volo palla break terzo set tutt'altro che chiuso Becker ha avuto un set point l'endler lo ha annullato con un passante di dritto in lungo linea adesso Becker fronteggia una palla break è stato pronto si è salvato con la posizione ancora prima che con il riflesso posizione perfetta era buona la voleva di rovescio tanto di più non poteva tirar fuori da quel passante l'endler si poi ci si può sempre chiedere forse poteva fare il pallonetto forse poteva giocare a lungo linea ha voluto cambiare ha voluto cambiare perché proprio due scambi precedenti aveva passato dall'altra parte quindi ha giocato un cross che era più difficile di un lungo linea set point numero due per Boris Becker hai visto le due occhiate ci sono dati un'occhiata l'uno con l'altro non particolarmente tenera prima palla micidiale centrale fuori la risposta di Landl ciao 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 ciao